Ciao a tutti, bentornati sul canale. Riaccomi dopo due settimane d'assenza che non postavo più nulla, vi chiedo scusa e sto cercando di essere più attiva ed operativa possibile, comunque come sapete causa lavoro e forse trasloco di mezzo, dico forse perché non saprò nulla fino a lunedì, quindi incrociamo le dita e mandatemi tantissima energia positiva perché ne ho veramente più. Comunque, in questo video ho voluto fare un omaggio all'Italia, come avete visto parecchie volte ho fatto tantissime cose riguardo l'UK, nel posto in cui vivo, insomma delle cose proprio in stile British, e invece questa volta ho voluto fare un omaggio all'Italia. E siccome, a parte che devo essere sincera, in questo periodo mi sento un po', non lo so, un po' demotivata, un po' giù riguardo il canale, non perché non sto facendo visualizzazioni, quello mi interessa poco perché comunque io i miei iscritti me li voglio guadagnare e sudare, non è il problema delle visualizzazioni, ma delle volte mi sembra di fare un po' le stesse cose, mi sembra di essere più che altro con poche ed epoche e poco originale, e secondo me è sbaglio andare sempre a guardare i video degli altri, diciamo che non faccio proprio male a guardare i video degli altri perché guardando i video degli altri imparo, cerco di vedere, cerco di apprendere dagli altri per migliorare il mio canale, però delle volte spesso, quando guardo certi video, soprattutto quelli di Simplow, io veramente, cioè, l'autostima mi cala proprio, e delle volte dico, ma chi me l'ho fatto fare? E comunque, vabbè, paranoia a parte, chi se ne frega, io non mollo e il canale non lo chiederò mai perché c'è gente più brava di me e comunque io, dalle persone più brave di me, voglio imparare. E niente, sì, insomma, questa volta ho voluto fare una cosa un po' più originale del solito, anche perché ho preso un po' ispirazione dai giardini di ninfa, e mannaggia, quando vivevo ancora in Italia non ci sono mai stata, e quando tornerò giù, non so quando tornerò giù, mi piacerebbe tanto andarci e vorrei portarci il mio ragazzo. Sì, mi sono ispirata un po' con i giardini lì perché, guarda, avevo proprio in mente di fare un giardino per The Sims, inizialmente volevo fare proprio un parco, poi lo farò, e poi mi sono in mente, ma perché non faccio un giardino stile romantico, un po' così, no? E sono andata a vedere, insomma, sono andata su Google a curiosare un po', e ho trovato, e ho visto questi giardini di ninfa, dalla quale io ho preso ispirazione e ho detto, ma perché non fare dei bagni romani, tipo delle rovine, così, no? E infatti poi l'ho fatto, infatti l'ho fatto. E come potete ben vedere, l'ho fatto proprio in stile antico, comunque un po' tipo rovine, ecco. E mi sono, diciamo, inventata una storia riguardo questi bagni, rovine romane, queste, diciamo che queste, queste terme, dove, che, diciamo, erano terme tempio della dea ninfa, ma sa che fantasia, Valentina, dove te la trovi, tutta questa fantasia dove ti esce? E infatti ora questo posto per i sim ha diventato un posto, diciamo, turistico, ecco, un posto da visitare, come potete vedere c'è la, ho messo, c'è la statua della dea che, dove le persone, dove, insomma, le tutti sim possono andarla a visitare, ecco. E questa dea, diciamo, che era la dea delle acque, facciamo che era la dea delle acque, la dea di queste acque termali, ma sì, inventiamocelo, è comunque The Sims che se ne frega. Ehm, sì, proprio, oggi, sono ispirata, oggi, sono, ma sì, inventiamoci, inventiamoci una storia, su. Sì, questa dea ninfa, che è la dea delle acque termali, dove i sim romani andavano a fare le terme e ad adorare questa, questa dea, ma sì, dai. Ehm, e niente, comunque, mi sono abbastanza divertita a fare questa cosa, un po' più diversa dal solito, dalle solite casette che faccio. Ehm, e niente, comunque, non so se avete visto, sta per il mese prossimo, uscirà un nuovo game pack, mannaggia a loro, ne stavo facendo un altro, e io quando l'ho visto ho detto, no, questo è veramente, veramente figo, che è Eh, The Sims Get Famous, praticamente, saranno famosi, non so come lo tradurranno in italiano, comunque, è una cosa figata, praticamente, questo game pack è dedicato a Hollywood, e c'è, ehm, e infatti, eh, i sims, praticamente, possono fare gli attori. Poi non so se magari potranno fare anche, che ne so, cantanti, una roba del genere, comunque già, c'è già come mestiere musicista, c'è già. Però questa è una cosa veramente, veramente figa, perché c'è proprio il set dove il sim può lavorare, e io, veramente, non vedo l'ora per installare tutto. Anche se, sto aspettando, perché, come sapete, sono in fase trasloco, e ciò, sto salvando tutti i soldi per comprare tutto l'arredamento, e, e quindi, diciamo che le priorità per il momento sono altre. E niente, dopo questa lunga chiacchierata, ragazzi, io vi lascio il video, spero tanto che vi piaccia, e ci vediamo alla prossima. Un bacione grande, ciao! Ciao!